Sì, da pochi anni in sede nazionale è stato sviluppato il compartimento dell'emergenza che è quel compartimento per dare un valore in più ai cuochi o persone che come il nostro responsabile che lavorava in tutt'altro settore si è dedicato a farla mangiare in quei momenti di bisogno che si sviluppano anche all'Aquila, eravamo presenti come FIC nazionale e quindi ogni regione sta cercando di avere un responsabile delle emergenze che in questo caso verranno interpellati nel momento del bisogno e ha creato una forza di lavoro, una squadra di noi cuochi.